E' durata due mesi la latitanza di Michelangelo Raso, 42 anni, condannato in via definitiva a 8 anni e 6 mesi di carcere per reati in materia di armi, rapine e ricettazione. Raso è stato arrestato mentre stava rientrando a casa a Rosarno a seguito di un blitz dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Gioia e Tauro, della tenenza di Rosarno e dello squadrone li portato Cacciatori. L'operazione è stata coordinata dalla Procura Generale di Reggio Calabria. Coinvolto nel 2017 nell'operazione Recherche che ha riguardato la cosca Pesce Bellocco di Rosarno, il 42enne era irreperibile dallo scorso 16 febbraio dopo che era stato colpito da un ordine emesso proprio dalla Procura Generale Regina. Rifugiatosi in Francia, Raso era rientrato in Italia per procurarsi denaro per sostenere la sua latitanza. Stando alle indagini era tornato in Calabria per vendere alcuni beni di proprietà e ricavare così nuove fonti di approvvigionamento. Il nuovo nascondiglio non è sfuggito però agli investigatori che non hanno mai smesso di seguire le tracce di Raso attraverso un'azione di controllo del territorio. Raso è stato trasferito nel carcere di Palmi.